L'estate è il momento perfetto dell'anno per rinfacciare ai tuoi amici e non che stanno sui social quanto sia figo il posto dove tu ti trovi mentre loro invece sono a lavorare come dei disperati a casa. E parlando di foto di questo tipo, tra le più gettonate ci sono quelle con le stelle marine. Il problema è che a fare quelle foto le stelle marine ci sta che vi muoian lì, però vabbè. Bentornati in un nuovo video ragazzi, penso che qualcuno di voi saprà già dove voglio andare a parare, è un argomento di cui in effetti già si è parlato nell'internet, però comunque sul mio canale mi piaceva avere un video dove facevo un focus proprio su questo argomento delle stelle marine. E quindi vi spiegherò perché tirar fuori dall'acqua, anche per pochi secondi, una stella marina per farci una foto è una cosa piuttosto sconsiderata da fare. Tanto per cominciare, le stelle marine, o più tecnicamente gli asteroidi, sì il loro gruppo si ama così, però non c'entra nulla con lo spazio, sono degli invertebrati marini molto carismatici, fanno parte del gruppo degli echinodermi. Questo filum, cioè questo gruppone di animali, racchiude altri loro parenti piuttosto famosi come per esempio i ricci di mare, i cetrioli di mare e altri un po' meno famosi come i crinoidi o gilli di mare e le ofiure o stelle serpentine. Sono animali pazzeschi, pensate che hanno più in comune a livello genetico con noi rispetto che con tutti gli altri invertebrati. E questo perché le nostre fasi embrionali sono piuttosto simili. Diciamo che la norma nel mondo animale è quella di essere protostomici, cioè vuol dire che nelle prime fasi di sviluppo dell'embrione prima si apre il buco che diventerà la bocca e poi eventualmente quello che diventerà l'ano. Nel caso nostro e degli echinodermi, nostro intendo non noi vertebrati, ma noi un po' i parenti, anche stretti ai vertebrati, quindi cordati in generale, nel nostro caso si apre prima il culo e poi la bocca, così. E questo li rende piuttosto vicini, evolutivamente parlando a noi. Ora, il discorso vertebrati-invertebrati c'è da affrontarlo, perché se io dico vertebrati effettivamente dico un qualcosa che a livello di classificazione scientifica ha senso. Cioè, se io dico vertebrati intendo un particolare raggruppamento nel filum dei cordati, che è un filum più ampio di cui facciamo parte appunto noi vertebrati. Se dico invertebrato, invece, è praticamente tutto quello che non è vertebrato. La cosa canza è che nel nostro raggruppamento, di cui facciamo parte, è quello dei cordati. Ci sono effettivamente degli animali, come le ascidie, che sono nostri strettissimi parenti, ma che effettivamente nel senso comune li intendiamo come invertebrati, ecco. Dire invertebrato, da un punto di vista di classificazione scientifica, non ha una sua validità. È semplicemente un compartimento spazzatura dove si mette tutto quello che non è vertebrato. Da dove spuntano fuori, no, questi invertebrati? È bene dare una piccola nota storica per contestualizzare e non darlo più scontato, perché in effetti è una cosa piuttosto recente. L'invenzione del termine invertebrato la dobbiamo a Lamarck, eminente naturalista francese che coniò questo termine nel 1794. Lamarck di formazione era un botanico che si era sempre occupato di botanica, appunto, geologia e chimica. Nel 1793 però gli fu letteralmente imposta dall'università la cattedra della cosiddetta materia chiamata zoologia dei vermi, degli insetti e degli animali microscopici. Non esistevano invertebrati al tempo, nel senso del termine. Esistevano i cosiddetti animali a sangue bianco o senza sangue, per riprendere appunto una definizione molto aristotelica, che si distinguevano semplicemente in due macrocompartimenti, cioè i vermi, di cui faceva parte anche la medusa, e gli insetti, di cui faceva parte anche il granchio, per intendersi. Lamarck quindi in pochi mesi fu costretto a imparare una quantità di dati mostruosa e mal organizzata su una materia di cui non si era mai occupato. Quindi nel 1794 coni appunto questo termine per distinguere i vertebrati dagli invertebrati e quindi dare un po' di ordine a quel marasma e quel caos che c'era. Si inventa anche delle classi omogenee al loro interno, distinte per ordine appunto di complessità. Poi, che la sua classificazione oggi sia comunque sbagliata, è un altro conto. Però comunque bisogna riconoscergli il grandissimo merito di aver iniziato un po' a mettere i puntini su lei. Torniamo adesso ai nostri amici echinodermi, in particolare al Modo Le Stelle. Com'è che gli echinodermi vivono? Cioè come si muovono? Come catturano il cibo? Come si ancorano? Allora, tutte queste cose sono rese possibili grazie ad un incredibile sistema che viene chiamato sistema vascolare acquifero. Questo sistema non è che sia la cosa più intuitiva del mondo da descrivere. Vi farò passare delle foto, insomma, per farvi capire meglio di cosa si tratta. Di solito c'è un canale di forma circolare che viene chiamato canale anulare, per questo motivo, dal quale si dipartono i cosiddetti canali radiali. Di solito, infatti, gli adulti, almeno di questi animali, hanno una simmetria pentaraggiata. Dai canali radiali si dipartono poi dei piccoli canali laterali, i quali, appunto, arrivano ai cosiddetti pedicelli ambulacrali. Una struttura veramente interessante e, per qualche verso, anche enigmatica, è la madreporite o piastra madreporica, chiamata. Una piastra di natura calcarea che, fondamentalmente, attraverso il cosiddetto canale petroso, porta l'acqua nel sistema acquifero. Ho detto enigmatica perché, comunque sia, fino a non molto tempo fa, non era benissimo chiaro a che servisse, oggi il consenso è che, appunto, sia tramite questa madreporite che l'acqua arriva da questo, appunto, canalino nel sistema acquifero. Comunque, questo sistema acquifero è pieno d'acqua e viene utilizzato anche per ricevere informazioni sensoriali dall'ambiente, nonché per respirare. Infatti, è grazie a questi canali che le particelle d'ossigeno arrivano, appunto, ai distretti del corpo e, grazie anche a questi canali, c'è l'escrezione, appunto. Perché, appunto, grazie a questo sistema vengono raccolte anche le sostanze di rifiuto e espulse. Grazie a questo sistema e grazie anche a alcune cellule specializzate dette celomociti. Il trasporto interno, sia, appunto, dell'ossigeno che dei nutrienti, è a carico del sistema acquifero e quindi gli scambi gassosi vengono realizzati con la cavità corporea. Infatti, l'interno di questa cavità corporea è ricchissimo di liquidi, perché, in realtà, in questi animali non è che ci sia molto altro oltre a sistema acquifero, sistema digerente e gonadi. Perché sì, infatti, indovinate un po' che cosa vi mangiate quando mangiate i ricci di mare. Eh, già. Per quanto riguarda la circolazione, aiutano, per esempio, anche i podi, che sono, appunto, questi letteralmente piedini che troviamo, per esempio, sulle braccia della stella marina. È un sistema piuttosto complesso che ha anche la capacità di regolare, grazie a alcune vescicole che fungono da depositi di acqua, dette vescicole del poli, la pressione dell'acqua al suo interno. E queste vescicole si trovano sul canale anulare, quello tondo, no? Da cui si ripartono quelli radiali che vi ho fatto vedere prima. Questi pedicelli ambulacrali sono delle sorte di piedini letteralmente mobili, particolarmente evidenti nelle stelle marine, grazie ai quali, per esempio, le stelle marine si muovono e funzionano anche loro grazie proprio al sistema acquifero. Praticamente c'è il canale radiale e l'acqua, appunto, va per il canale radiale finché non arriva a un canale laterale collegato proprio al pedicello. Nel canale laterale c'è una valvola che impedisce all'acqua di tornare indietro una volta arrivata nel pedicello. Quindi, letteralmente, gonfia d'acqua questo pedicello, che, appunto, nella sua parte più alta, viene chiamata ampolla questa parte, è sempre pieno d'acqua. Quindi, questi pedicelli possono fungere da vere e proprie ventose perché sono sempre pieni d'acqua. Quando, praticamente, si gonfiano d'acqua, il pedicello si espande. Quando si sgonfiano, il pedicello si contrae, creando, appunto, una vera e propria ventosa grazie alla quale questi animali possono rimanere attaccati ai substrati duri. E questo spiega perché, per esempio, è difficile staccare, magari, una stella marina da uno scoglio, ma è facile staccarla, per esempio, da un fondale sabbioso. Lì, non c'è presa. Magari uno, di per sé, non è che faccia tanta forza, però le stelle ne possono anche avere diverse centinaia, quindi, capite, insomma, che mettendoli tutti insieme in numero, la forza che possono esercitare è discreta. Grazie a questa caratteristica dei pedicelli, alcune stelle marine addirittura possono esercitare una discreta forza che utilizzano, per esempio, aggrappandosi alle valve di alcuni molluschi bivalvi, che sono il gruppo di cui fanno parte le vongole, per intendersi, e per, letteralmente, fare abbastanza forza da aprirle, e a quel punto è nulla. A quel punto, praticamente, tra le valve aperte, letteralmente, buttano fuori dalla bocca il proprio stomaco che va dentro le valve del mollusco, lo digerisce esternamente, e quando è ridotto a una pappa, riterranno dentro dalla bocca il loro stomaco con anche il pasto digerito esternamente. Quindi adesso sappiamo come funziona un pochino meglio la stella marina. Ovviamente ho volutamente omesso un sacco di parti per non rendervi il discorso troppo complesso, perché chiaramente esulavo un po' dal messaggio che volevo mandare a questo video, e ovviamente ho parlato solo della parte che ci serviva, ignorando altre parti del metabolismo della stella, insomma, che non ci competevano ai fini di questo video, ripeto. Comunque, ora che sappiamo un pochino meglio sta cosa, che ce ne facciamo? Allora, vi ricordate quando vi parlavo della madre pulite o piastra madre pulite, che dir si voglia, che è quel punto, no, in cui appunto entra l'acqua. Ecco, se voi prendete una stella da sott'acqua, quindi che lei sta tirando acqua dalla madre pulite, e la tirate fuori, entrerà aria invece che acqua dalla madre pulite. E anche pochi secondi, anche poche bolle d'aria che vengono immesse nel sistema acquifero della stella possono risultare fatali. Quindi quello che vi consiglio è assolutamente evitare di tirare fuori le stelle di mare dall'acqua, perché effettivamente può essere loro fatale. E secondo me la vita ad una stella marina non vale un selfie per quanto figo possa venire. Vedo un sacco di bambini che giocano al mare che maltrattano letteralmente un sacco di bestiole che trovano. Ora, io sono il primo a sostenere che osservare un animale in natura nella propria fisicità sia una cosa pazzesca e assolutamente educativa per un bambino. Io, se mai avrò dei figli, non negherò mai loro il piacere di mettersi a guardare che cosa fa un granchio che difende la sua tana, che si mangia le sue alghette, perché sono praticamente degli atti di quotidianità che sono pazzeschi. Io li trovo meravigliosamente affascinanti, i granchi specialmente. Infatti ho fatto proprio un post su Instagram di recente per parlare di questa cosa qua, dei granchi. Però io vedo spesso e volentieri che questa mancanza di tatto verso queste creaturine viene dai genitori, perché permettono ai figli di catturare pesciolini, granchietti, animaletti del mare, lasciarli in un secchio tutto il giorno e poi ovviamente se ne scordano e li fanno morire lì. Quindi anche a me se si vogliano prendere degli animaletti e metterli in un secchiello o in una vaschettina per guardarseli meglio. Poi, cavolo, non ve li dimenticate lì, rimetteteli dove li avete presi. Quando ero piccolino l'ho fatto anch'io e non sapevo sta cosa. Quindi, se l'avete fatto, non vi dovete sentire dei mostri. È chiaro, il video non serve a farvi sentire dei mostri. Solo che dal momento che uno adesso ha una coscienza migliore e sa anche qualcosina di più sulla natura di questi organismi, è giusto mettervene a parte di modo che sappiate come comportarvi in primis voi stessi, ma anche come possiate educare le persone intorno a voi, figli compresi, affinché ci sia un rispetto verso queste creaturine. Ora, il video si basa appunto sulle stelle, sul fatto che se le tirate fuori dall'acqua ci sta che muoiano, però in realtà, come vi dicevo, un discorso può essere allargato a tanti altri animaletti con i quali condividiamo le vacanze al mare. Quindi, guardare gli animaletti nel loro ambiente? Yes. Metterli, ovviamente, con le dovute cure in un secchiellino, in una teca per guardarseli meglio? Yes, di nuovo. Però poi, non li lasciate a fare brodo sotto il sole, perché, insomma, abbiate cura di loro e soprattutto se proprio li volete guardare meglio in una tecchina, abbiate cura di rimetterli dove li avete presi, prima di, insomma, scordarvele lì. Poi vabbè, andate tranquilli, l'essere imperfetti è una condizio sine qua non della vita in generale sulla Terra. Infatti, Telmo Pevani ci ha scritto un libro che è Imperfezione, una storia naturale, sottotitolo. Perché? Perché fondamentalmente noi stessi, come dice qui dietro, siamo il risultato di una serie di imperfezioni che hanno avuto successo. Che vuol dire? Vuol dire che in natura non si tende a un miglioramento in assoluto, ma si tende a fare il meglio che si può con quello che si ha. Spesso e volentieri ci sono dei benefici, ma ci sono anche dei costi. È tutto un rapporto di costi e benefici l'evoluzione. Ed è lungi dall'essere un processo che è perfetto e che va sempre a migliorare in assoluto. Tra l'altro, vi ringrazio di cuore perché questo libro mi è arrivato tramite La Voicilista che è un modo appunto per contribuire alla crescita del mio progetto di divulgazione come anche Patreon che ho aperto di recente. Trovate il link ovviamente tutto quanto in descrizione. Vi ripeto, non prendete il video come una paternale e vi dice ah dovete fare così perché non vi dovete sentire in difetto. Semplicemente volevo prendere la palla al balzo visto che siamo in estate per parlare appunto di questa cosa qui perché comunque sia è bene che a tante persone arrivi il messaggio. E poi era un buon pretesto per parlarvi di qualche curiosità legata alle stelle marine insomma male non fa mai. Quindi trovate tutti i link utili per sostenere il mio progetto eccetera in descrizione e per il resto vi auguro una buona fine di inizio di fine estate o poiché e niente ci vediamo al prossimo video. Ciao! Esiste anche qualche specie di stella marina che è capace di resistere ore fuori dall'acqua perché magari vive in zone dove c'è un'escursione giornaliera per esempio dovuta alle maree del livello del mare quindi insomma resta lasciotto per un po' però nel dubbio io non le tirerei fuori comunque dall'acqua. Nel mentre date un occhio anche agli altri video già che ci siete ce n'è per tutti i gusti sul canale se vi piacciono gli animali.